E' un nuovo episodio di Let's Play Nello scorso episodio siamo arrivati l'ultima volta che ho controllato a 110 mi piace e più di 40 commenti quelli non li ho contati sapevo già che la superavamo e appunto perché ve lo sto dicendo perché vi sto dicendo perfettamente quanti mi piace c'erano perché ho deciso che d'ora in poi andremo a fare una cosa un po' speciale che vi spiegherò fra poco ma prima appunto vi ricordo che se superiamo la sfida di questo episodio il prossimo episodio sarà un po' più lungo Ho deciso che questa cosa la manterrò per ogni episodio quindi se che ne so oggi la superiamo la sfida il prossimo episodio sarà non dico di 25 minuti perché è un po' estrema la cosa farlo per ogni episodio ma magari di 22 o 23 o quello che riesco a fare appunto per un episodio o almeno per quell'episodio quel certo episodio che andremo a vedere Comunque prima di passare al commento del giorno di oggi voglio dirvi che mancano due episodi all'episodio col segreto e visto che nel prossimo episodio non vorrei spendere tempo su questa cosa voglio che mi iniziate a lasciare qualche idea o qualcosa di speciale per l'episodio 215 Perché sapete che ogni volta che c'è un episodio che finisce col 5 e quello 0 noi proviamo a fare qualcosa di speciale o qualcosa di diverso per sia contentare le persone sia staccarci un po' dai soliti progetti che facciamo e che appunto portiamo avanti ogni episodio Quindi se avete qualcosa di speciale vi consiglio di lasciarmelo appunto scritto nei commenti oppure se volete potete pure mandarmelo via messaggio o se c'è qualcosa che volete mandarmi che magari secondo voi non potete spiegarmi via messaggio potete mandarmi anche con delle immagini su facebook Vi ricordo che la pagina di facebook è nella descrizione e è piuttosto utile perché li do tutte le news, do tutte le novità sul canale eccetera eccetera che appunto non potrei darvi direttamente via youtube Quindi passiamo al commento del giorno di oggi che è di Jacopo Cella che ci dà un'idea piuttosto interessante o più che altro un consiglio che ho deciso che andremo a fare Che è quello di se noi superiamo la sfida da parte dei commenti andremo a scegliere due commenti appunto del giorno, due commenti dell'episodio dopo E invece se superiamo sia la sfida sia appunto dalla parte dei mi piace sia dalla parte dei commenti andremo anche a rendere il video più lungo Quindi ho deciso che se superiamo la sfida completamente andremo a rendere il video di una durata maggiore come vi ho appena detto E se superiamo la sfida solo dalla parte dei commenti quindi 40 andremo a scegliere due commenti del giorno perché alla fine i commenti, la sfida per i commenti c'entra solo con quello Quindi non ci avevo mai pensato e lo ringrazio per l'idea e questa cosa parte dall'episodo di oggi quindi dal prossimo episodio Se superiamo la sfida da oggi sarà così e da questo episodio in poi Quindi questo è tutto quello che volevo dirvi prima di iniziare questo nostro episodio e ora iniziamo ovviamente Ok allora la prima cosa che andremo a fare oggi sarà andare a vedere un paio di idee che mi avete dato voi e che mi avete più o meno ispirato voi Per l'entrata per il nostro nuovo villaggio con le norme che stiamo progettando e diciamo sono idee piuttosto carine che mi avete consigliato voi Siamo in un mondo così creativo a caso perché quello che avevo prima l'ho cancellato per sbaglio e non lo posso più riprendere Quindi tutte le cose che avevo preparato lì non ve le posso far vedere ho dovuto rifare qua due versioni molto semplici Allora iniziamo dalla più semplice che è questa e come prima cosa voglio farvi vedere come funziona Semplicemente una cortina d'acqua si ci possiamo passare anche quando è tirata giù quando è così Però in realtà la possiamo sostituire con la lava quindi diventa un po' più pericolosa la cosa E un'altra cosa che possiamo fare è aumentare lo spessore di quanto questa nostra acqua ci sta Quindi possiamo portarla anche ad essere di 10 blocchi e appunto possiamo fare una cosa del genere E poi la gente non ci passerà sicuramente se è di lava anche se è una cosa che stiamo facendo in single player Mi piace pensare appunto anche un po' nel modo multiplayer quindi molto molto semplice È semplicemente dell'acqua che cade da dei dispenser tramite dei bucket Pensavo di utilizzare dei pistoni ma è molto più semplice così per quelli fanatici della redstone che vogliono sapere come l'ho fatto Sono semplicemente dei bottoni messi da entrambe le parti Li ho messi così perché così li abbiamo da entrambe le colonne E allo stesso modo abbiamo anche appunto abbiamo i bottoni dallo stesso lato Quindi qua è a destra e quando vogliamo uscire è sempre a destra Quindi giusto perché sono un po' city e mi piacciono avere le cose da entrambe le parti E da avercele perfette e questo però è semplicemente redstone nulla di così speciale E ci sono le torce in mezzo che trasportano l'energia appunto della redstone fino qui sopra Quindi quando io premo questo bottone se guardiamo qui dentro Quella torcia si disattiva, si disattiva quella sopra e si accende qua sopra Quindi molto molto semplice Invece la seconda versione che ho creato che mi avete sempre consigliato voi È una versione che usa un po' la gravità del gioco Come sapete la gravel, la red sand e la sand normale Sono appunto... sono così effettuate dalla gravità Quindi per poter appunto utilizzare questo sistema dobbiamo creare una cosa un po' più complicata Potete vedere che lì sotto ci sono dei pistoni Vi ho appena dato un po' un'idea di quello che sarà l'intera cosa E appunto quello che potete vedere che succede è quando io rompo un pezzo di sabbia Quello sopra scende, quello sopra scende, quello sopra scende e così via Quindi quando io premo questo bottone che è collegato qui sotto tramite una cosa un po' complicata Potete vedere che il filo arriva da questo bottone che è da entrambe le parti Qua l'ho deciso di fare solo da un lato perché è molto più semplice e mi risparmia anche un bel po' di materiale Quindi energia, i bottoni la mandano lì dietro, proprio lì Questo scende qui sotto, arriva qua, arriva ad un t-flip flop di quelli in modo vecchio perché è meno costoso E questo t-flip flop praticamente fa quello che fa una leva solo con un bottone Perché ho fatto così? Perché è più bello da vedere un bottone che una leva E appunto ogni volta che arriva un segnale cambia posizione quindi ora è acceso e i pistoni sono così allungati E quando io lo premo i pistoni si ritraggono e tutta la sabbia grave, lo red sand cade e ci permette di rientrare Qual è il problema con questo? Il problema con questo è il reset che richiede un bel po' di tempo O un bel po' di materiali per tipo fare un muro enorme che li rilascia ogni volta che richiudiamo Non lo so, devo ancora decidere quale delle due andare a utilizzare Sto cercando anche altri metodi però appunto per ora queste sono le due che sono riuscito a fare e che mi avete consigliato voi Ok ora voglio andare un po' a lavorare a questo nostro progetto Allora vi farò vedere un paio di cose Prima cosa ho allargato un po' qua l'area che avevo creato Non so perché ho detto l'area staccato ma lasciamo stare E ho appunto ricoperto tutto, mi ero portato della terra extra, questa l'ho lasciata qua perché sapevo che mi sarebbe servita oggi O forse se dobbiamo espanderci da qualche parte Però voglio collegare qua un attimo tutto in modo che posso tranquillamente andare in giro senza dover rischiare di cadere O senza dover fare i salti mortali E voglio farvi vedere cosa ho fatto Beh prima cosa ho portato con me una brick stair perché volevo metterla lì sopra per poter aprire la cesta anche da chiusa Sì da coperta scusate no chiusa Vabbè come apri una cesta da chiusa Beh no aspetta se è chiusa tu la apri Vabbè comunque allora con i tre item frame che ho qua mi avete consigliato di utilizzare per ora questi item che sto per andare a mettere Quindi mi avete consigliato torce, cobblestone e infine le enderpearl che magari vorrei anche mettere Ok perfetto E perché mi avete consigliato queste qua? Perché sono quelle che di solito utilizziamo sempre di più o ci servono sempre di più Non sappiamo mai dove prenderle o se ce le abbiamo con noi Quindi sopra ognuno di questi andremo a mettere un bottone che per ora ne ho solo uno ma poi ne andrò a fare un altro po' Anzi forse li posso già fare ora perché ho queste cose qua Perfetto C'ho i bottoni E appunto quello che andremo a fare sarà collegare ognuno di questi Cosa che sarà piuttosto difficile perché sono tutti vicini E dovremo andare a fare un bel po' di lavoro che sicuramente non vi farò vedere perché sarà più o meno complicato E non vorrei appunto annoiarvi tantissimo con i lavori in redstone perché sono estremamente difficili E li andremo a collegare tutti e tre a lo stesso setup Lo stesso setup sarà collegato poi Anzi non andremo proprio a fare così Cioè vediamo se riesco a spiegarvelo senza confondere me stesso Allora quello che noi andremo a creare visto che mi ero craftato Ecco qua dei repeater perfetto Quello che andremo a creare ora giusto per provare e farvi capire come andremo a fare il nostro progetto Sarà creare un piccolo timer di quelli estremamente semplici Che ho già fatto vedere non so quante volte È uno dei più semplici e dei più veloci Ed è questo timer qua Quello che noi andremo a fare sarà collegare questo timer In una maniera possibile che ognuno di questi nostri dropper sia collegato adesso Per farli attivare dovremo andare a mettere un blocco qua Per attivare questo blocco andremo a metterci sotto un pistone Che lo alza e lo abbassa secondo il bottone che abbiamo premuto Perché i bottoni? Perché ora sono solo dei template e mi serve solo per quello E questo andrà praticamente a creare una specie di loop di item che escono e non lo possiamo disattivare quando usciamo Quando appunto siamo contenti quando ci sono abbastanza item appunto nella nostra cesta e diciamo ok basta sono più che abbastanza E questa sarà la prima versione invece quando ne vogliamo uno singolo andremo a fare la stessa cosa però li andremo a collegare qua Quindi invece di avere un dropper qua sulla nostra linea ora l'ho fatta molto grande giusto per darmi spazio sulla quale lavorare Lo andremo a fare qua quindi qua ci sarà il nostro bottone dietro come ce l'abbiamo qui e quando lo premiamo Gli item usciranno da questo nostro dropper ora non ha funzionato perché mi sa che l'ho posizionato male o forse non funziona così direttamente Però in poche parole ci basterebbe metterci dietro una torcia per farlo funzionare E andremo a inserire direttamente gli item nella zona che ci interessa e via i nostri dropper e i nostri hopper dentro la nostra cesta Quindi non sarà così difficile richiederà giusto un po' di lavoro perché dovremo andare a fare tutta la parte redstone E dovremo andare a decidere se utilizzare delle come si chiamano delle pressure plate oppure utilizzare dei bottoni o delle leve Quello che appunto ci interessa quindi per ora lo lasciamo un po' stare ci lavorerò piano piano e vi darò qualche update su di esso nei prossimi episodi Ok allora come domanda oggi voglio farvi una domanda che è molto molto personale Non personale perché vi chiedo il vostro numero di carta di credito ma perché appunto è secondo giudizio personale secondo preferenza Quindi di che cosa voglio parlare di che cosa voglio appunto domandarvi oggi Beh quello che non tutti forse sanno è che io ogni tot di episodi o ogni numero a caso sinceramente perché non c'ho un numero di episodi che lascio fra una volta e l'altra Vado a mostrare qualche resource pack texture pack per quelli che non sono così tanti così tanto aggiornati su le novità di minecraft Le vecchie texture pack ora si chiamano resource pack appunto le vado a mostrare verso la fine dell'episodio di solito sempre come ultima parte Per appunto non so farvi vedere qualcosa di più carino o farvi vedere qualche cosa diversa Questo fine settimana ne ho viste un paio di interessanti forse ve le faccio vedere proprio oggi una non ne sono sicuro ancora Comunque appunto vorrei sapere o vorrei chiedervi direttamente a voi se secondo voi dovremmo andare a continuare oppure no Questo piccolo non so come si chiama questa piccola show real possiamo chiamarla così di appunto di resource pack Che io trovo piuttosto interessante come cosa da fare perché alla fine vi do anche una mia opinione su una resource pack E vi dico cosa ne penso di essa però voglio sapere cosa ne pensate voi se secondo voi dovremmo continuare questa cosa oppure no Ok ora voglio farvi vedere un piccolo update che ho fatto alla nostra piccola zona che abbiamo chiamato indice dei colori Allora potete vedere che abbiamo tutti i colori della nostra lana poi abbiamo buon ferro oro diamante Non sono riuscito a farmi uno smeraldo perché ho solo 4 smeraldi e me ne mancano altri 5 ma cercherò di farlo piuttosto in fretta Poi ho iniziato a mettere il legno e ho pensato ma aspetta il legno ha due texture diverse a quella laterale e quella sopra Quindi potete vedere che le ho messe entrambe di tutti e 4 i colori e poi ho iniziato a mettere un po' di blocchi a caso Ho messo per esempio il melone, la netherrack, la sussend, l'obsidian, la terra, anzi la stone, la moss stone Un blocco di redstone e tutte le clay che noi abbiamo al momento che siamo riusciti a prendere dalla nostra mina E voglio andare a farvi vedere quello che è un po' diventata la nostra mappa nella zona dove abbiamo tutti i colori E quello che vorrei fare, ora si sta piano piano aggiornando ma probabilmente richiede un po' di tempo Quello che vorrei provare a fare è diciamo piano piano col tempo spostare tutto questo nostro indice in una mappa dove noi possiamo guardarla ad ogni momento Però allo stesso momento è su un colore piano che non interferisce con nessun altro Questo azzurrino sembra essere piuttosto buono ma se usiamo qualcosa di azzurro poi non si nota bene quell'azzurro lì Quindi pensavo di farlo sul bianco ma non funziona bene sul bianco quindi non sono sicuro che colore andremo a utilizzare In più probabilmente lo andiamo a fare molto lontano da qua E vorrei provare a fare che ogni colore diciamo in cui la nostra mappa poi lo andrò a segnare Su una specie di catalogo scritto sul libro oppure con dei cartelli Dove scriverò appunto ok guarda il terzo blocco della seconda linea è che ne so la clay di quello quello colore Così che invece di dover andare fino là guardare che colore è e che blocco è lo possiamo fare dalla distanza E senza doverci né lamentare di fare tutto quel viaggio né doverci spostare così tanto Quindi quello che vorrei chiedervi è se secondo voi c'è un materiale che è abbastanza neutro per fare questo nostro indice dei colori Che potrebbe essere appunto utilizzato nel nostro piccolo progetto Ok allora ci troviamo nel nostro villaggio che è dove andremo a creare quel nostro enorme cerchio Che poi andrà a comporre vediamo se riesco anche a dire le parole corrette il villaggio ancora più grande E perché sono qua? Perché voglio iniziare a demolire completamente il villaggio che c'è al momento Perché? Per due motivi principali Allora il primo motivo è che sinceramente questo villaggio l'abbiamo già un po' distrutto E abbiamo già rimosso un sacco di cose come le porte, tutto il legno possibile E un altro bel po' di cose che non si notano però appunto non esistono più Perché le abbiamo tolte Perché? Perché ci servivano materiali, perché era moltissimo tempo fa E in più perché dovevamo estrarre tutti i villaggi da questa zona per trasportarli i nostri piccoli lager a casa Quindi quello che voglio andare a fare è distruggere tutte queste nostre case Tutto quello che c'entra con il villaggio e appunto recuperare tutti gli item E poi magari utilizzarli in qualche modo nel nostro mondo Magari ricreando il nostro villaggio in parte o appunto qualcosa di esso Per comunque ricordare che qua una volta c'era un villaggio e che c'erano dei villager che una volta vivono qua Però noi li abbiamo estribati dalla loro vita e li abbiamo portati nei nostri lager Dove sono da un bel po' di tempo Quindi andrò piano piano a rompere il tutto Ovviamente richiederà un po' di tempo Però perché ve lo sto dicendo? Perché c'è anche un altro motivo Perché visto che l'interno ci servirà completamente come nuova zona per costruire e per fare cose nuove Voglio avere un... come possono dirlo in italiano? Sono troppo abituato a parlare inglese dovrei abituarmi anche a dire certe cose in italiano Come una tela bianca, come un foglio bianco sulla quale lavorare e sulla quale creare qualsiasi cosa che noi vogliamo Questo comprende anche la forma del nostro... appunto della nostra zona e tutto quello che c'è dentro di essa Quindi volevo giusto spiegarvi questa cosa e perché sto distruggendo tutto Ok allora voglio un attimo rimuovere questo piccolo mini progetto che avevamo creato tempo fa Perché non lo stiamo più utilizzando e sinceramente non ci serve più a nulla Quindi lo voglio rompere Per quelli che si stanno chiedendo cos'è o cos'era Una volta prima che lo distruggessimo Era un piccolo segnalino che ogni giorno rilasciava un fuoco d'artificio Che ci diceva che era giorno oppure era notte Quindi ogni volta che c'era il cambio appunto fra giorno e notte C'era questo segnale che ci veniva mandato e ci avvertiva appunto del cambiamento Perché non ci serve più, perché non ci facciamo caso e andiamo in giro sempre di giorno E sinceramente non è tutta quella utilità visto che non lo stavamo proprio utilizzando E in più mi permette di recuperare un po' di oggetti che comunque avrei dovuto ricraftare Se ci sarebbero serviti in qualche altro caso Ok allora per concludere questo episodio voglio andare a parlarvi giusto di un'ultima cosa Lo so oggi non siamo riusciti a fare molto ma avevo un sacco di cose da dire, da farvi vedere Quindi ho deciso più che altro di dedicare questo episodio un po' così, un po' diverso, un po' strano Appunto al parlare più che altro più che fare altro Nei prossimi episodi vi prometto che andremo a fare molte più cose Ve lo giuro al 100% Di cosa voglio parlarvi quest'ultima parte del nostro episodio? Beh voglio parlarvi della nostra farm Di gold Perché? Perché come sapete Nell'ultimo snapshot c'è stato un piccolo cambiamento Che è quello che i pigmen non possono essere uccisi O non possono droppare qualcosa Come oro, nuggets o cose del genere Se non uccisi da un player Cioè un'entità giocatore come me O come qualsiasi altra persona Se su un server multiplayer E appunto qual è il problema Di questo nostro cambiamento Che come prima cosa si applica anche a Iron Golem Quindi la nostra farm di Iron probabilmente diventerà obsoleta E inutilizzabile Perché dovremo andare a uccidere a mano E non potrò più stare half-k in quella zona E farmare centinaia, centinaia di pezzi di ferro Però questa qua la possiamo ancora salvare Perché? Perché se non vi ricordate Se noi andiamo qui sotto nella nostra zona Abbiamo qua Un setup che ci permette di scegliere Se uccidere i nostri pigmen a mano Che è così con l'acqua sotto Così che non prendono danno da caduta Oppure farlo uccidere in automatico Quindi se questo cambiamento sarà finale Probabilmente andremo a Non so O distruggere O modificare completamente la farm di ferro Questo lo vedremo più avanti E lo vedremo anche secondo scelta vostra Voglio un po' lasciarvi la scelta anche a voi Però questa qua di gold Forse forse la riusciamo a salvare Non sono sicuro se questi cambiamenti saranno ufficiali Non ho ancora trovato parola Non ho ancora trovato nessuna informazione extra sul fatto Però volevo giusto parlarvi di questa cosa Perché è piuttosto importante Però mi dispiace dirlo Ma per questo episodio è tutto Perché siamo già oltre ai 20 minuti Quindi io vi ricordo che la sfida di oggi 130 mi piace e 40 commenti Vi ricordo di lasciare mi piace, commentare Iscrivervi, mettere il video su Facebook Twitter, qualsiasi cosa che voi utilizziate Oppure mandarlo agli amici Alla zia, alla nonna, al cugino, al gatto, al topo Chiunque voi vogliate La vostra La vostra Jack Lantern Non lo so Se volete aiutarmi col canale Se volete un po' Farmi conoscere in giro E nulla Io spero che questo episodio vi sia piaciuto Con questo in saluto Bella raga Qui danne fra Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti